Benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner. Oggi ci concentriamo sulla nostra rivista Le Fonti Legal e in particolare sull'ultimo numero che è appena uscito. Andremo a vedere come sempre, faremo una rassegna stampa, dei contenuti più interessanti. Partiamo dalla copertina che abbiamo dedicato a un avvocato amministrativista che è Carlo Malinconico che ha ipotizzato una interessante ricetta per favorire la ripartenza dell'economia appunto dopo l'attuale crisi in cui siamo ancora immersi. Come? Rivedere gli equilibri e la sinergia tra il comparto pubblico e privato. Si tratta del cosiddetto partenariato pubblico-privato che molto spesso, purtroppo, in Italia non ha funzionato, ma secondo Malinconico può essere una interessante opportunità. Ecco, entriamo nel dettaglio dell'intervista articolata che ha rilasciato l'avvocato alle fonti legal, andando a vedere un estratto molto importante. Secondo Malinconico, come possiamo leggere nel cartello grafico, occorre far sì che le risorse provenienti dall'ampliamento del debito pubblico siano concentrate su obiettivi strategici e non disperse in una serie di interventi a pioggia che però non generino un flusso di investimenti, i quali appunto devono agire come volano per l'intera economia. E proprio questo, insomma, è il punto. Interventi che effettivamente servono per far ripartire l'economia e non interventi tappapuchi, quali per esempio la prevenzione delle catastrofi naturali, la realizzazione di infrastrutture, lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma anche la banda ultralarga. Insomma, in poche parole, le grandi opere che abbiamo citato nel titolo di copertina. Andiamo avanti. Un altro interessante approfondimento che abbiamo effettuato con appunto la nostra rivista Le Fonti Legal è un sondaggio, un sondaggio che abbiamo dedicato alle misure anti-Covid che hanno messo in campo studi professionali, aziende e istituti finanziari e abbiamo visto cosa ne pensano professionisti e lavoratori, chiaramente, e come si sono trovati. In particolare ci siamo concentrati su quel filo sottile che lega lo smart working alla produttività. Cos'è emerso? È emerso, come possiamo leggere nel cartello grafico, che per il 37,6% degli intervistati l'effetto del lavoro agile sulla produttività è stato effettivamente positivo. Ma, dall'altro lato importante della medaglia, il 60% degli intervistati ha affermato che lo smart working non ha avuto alcun impatto sulla produttività o addirittura per un intervistato su 5 ha avuto un effetto negativo. Questo cosa significa? Che ancora molte realtà sono in quella fase cosiddetta emergenziale che serve strutturare al meglio lo smart working, insomma, e il lavoro agile. Per molti, chiaramente, da marzo scorso ci si è trovati dall'oggi al domani a implementare delle politiche di smart working quando ancora non si era preparati. Bene, andiamo avanti, passiamo all'editoriale, che abbiamo dedicato a un tema su cui ci stiamo concentrando da diverso tempo, come le fonti legal sia con la rivista sia con la tv, ed è l'esame da avvocato 2020. Perché? Perché i praticanti che si sono iscritti a questa sessione, diciamo, tra virgolette, a dir poco sfortunata, sono ancora e stanno vivendo una situazione di limbo. Le date inizialmente previste per gli iscritti erano previste per metà dicembre, chiaramente l'emergenza sanitaria le ha fatte slittare, a quando verranno indicate il 18 dicembre dal Ministero della Giustizia e, ipoteticamente, saranno previste per marzo 2021. Ma il problema qual è? Il problema è che probabilmente, tutti ovviamente ci auguriamo di no, ma probabilmente a marzo 2021 saremo ancora in una fase, in un periodo emergenziale, tale per cui gli esami iscritti non si potranno svolgere in presenza. E quindi manca ancora un piano B. Il Ministero della Giustizia non l'ha pensato, gli organi e le istituzioni della categoria forense ci stanno pensando, ma manca, appunto, una linea comune e così gli ordini territoriali si stanno muovendo, diciamo, in ordine sparso. Ad esempio, vi riportiamo questa iniziativa, l'Ordine di Milano sta avviando un tavolo di lavoro con università, avvocati e praticanti avvocati per valutare la fattibilità degli esami della prossima primavera da remoto. Però, appunto, come abbiamo sottolineato e come stiamo sottolineando da tempo, manca una regia comune a tutto il mondo dell'avvocatura. Il rischio, appunto, come possiamo leggere nel nostro cartello grafico, è concatenarsi di ritardi, tali per cui l'esame di abilitazione forense 2020 potrebbe effettivamente concludersi nel 2022. Questa sarebbe una sconfitta per tutti, per la politica da un lato, il Ministro della Giustizia che non ha saputo prevedere questa situazione, per la categoria forense che ancora una volta non è riuscita a fare quadrato su questo tema, e a pioggia, purtroppo, per le migliaia di praticanti avvocati che aspettano di essere abilitati alla professione come meritano. Ecco, io vi lascio con le consuete indicazioni su dove trovarci, dove trovare la rivista, Le Fonti Legal, nel tradizionale formato cartaceo, basta scrivere ad abbonamenti, chiocciolallefonti.it e ve la spediamo noi, oppure, appunto, in forma digitale. In forma digitale, per scaricare, appunto, la rivista, basta iscriversi alla nostra newsletter. Come fare? Sul sito lefonti.legal trovate tutto il form da compilare in home page, oppure potete collegarvi cliccando sul link che abbiamo, che vi mostriamo in sovraimpressione. Ancora, tutte le notizie che riguardano il mondo legal le trovate sui nostri canali social, quindi a partire da LinkedIn, YouTube, ma anche Facebook, Twitter, Instagram, insomma, ci trovate ovunque. Non mi resta che darvi appuntamento, quindi, alla prossima puntata di Legal Corner.